Buongiorno, grazie per avermi dato l'occasione di ascoltare e di partecipare ad un convegno così importante. Forse questo è il convegno che fa da cornice anche a tutti quegli studi, quei congressi che hanno una qualche specificità che riguardano temi particolari oppure specialità mediche diverse. Grazie perché partecipando a molti convegni posso dire e posso testimoniare che Brescia, non solo l'università ma la città, tutte le componenti che vedo qui presenti, hanno espresso questa mattina, esprimono il bisogno di affrontare il tema in maniera generale. Io poi lo affronterò proprio nel più generale possibile perché vedete un grande medico, un microbiologo, e qui un po' la simpatia verso il mio amico rettore, René Dubois nel 1968 scrisse un libro che si chiamava, intitolato, il titolo era «So human and animal», dice così umano un animale. È una definizione dell'uomo, in fondo sottolinea che fa parte di una delle specie viventi, delle specie animali, che però ha questa caratteristica dell'umano. Ed è proprio su questo termine che su questo termine umano che io vorrei fondarmi. Perché? Che cos'è l'umano? Che cosa è successo perché un animale diventasse umano? Perché questo siamo noi. E il diventare umano non è stato un percorso molto breve, ma la storia antropologica fa sì che ad un certo punto, circa due milioni, due milioni e duecento mila anni fa, da una specie, quella degli austrolopitechi, si, in modo evoluzionistico, si staccasse un ramo, quello dell'uomo. Ed è un ramo che faticosamente ha portato a rendere quell'animale, quando era un austrolopiteco, a renderlo umano. Cosa vuol dire essere diventati umani rispetto ad una quantità ancora di specie, che hanno delle caratteristiche organizzative e comportamentali che sono ben precise. Guardiamo le cosiddette società, le società come le formiche, i cosiddetti animali sociali, hanno una organizzazione per affrontare l'adattamento all'ambiente, questo è il concetto di Darwin, e lo fanno attraverso una serie di elementi che abbiamo chiamato prima istinti, cioè degli automatismi, cioè un codice che prevedeva comportamenti ben determinati, poi abbiamo unito al termine istinto, e oggi lo usiamo molto più spesso, che è quello di pulsione. Cioè ci sono delle specie che appunto hanno la pulsione, la spinta a organizzarsi in un certo modo per rispondere ai bisogni. Non so, oggi si studiano molto le termiti, la società delle termiti, perché è vista come una organizzazione animale che ha caratteristiche straordinarie, quasi di perfezione. Basterebbe vedere, per chi è stato nella savana africana, vedere quei termitai che sono enormi, dei veri grattacieli, ed è interessante che ogni fascia orizzontale è collegata a quella superiore e tutte queste strutture, tutte queste divisioni ripetono in maniera esatta un'organizzazione che però è dal punto di vista della società, realizza i bisogni della sopravvivenza. Ecco, che cos'è che ha fatto sì che quell'animale diventasse, rimanesse animale, ma diventasse umano? E qui c'è tutta la storia straordinaria di quella che è l'evoluzione, in particolare viene studiata attraverso l'evoluzione del cranio, delle ossa, ma perché questa è una modalità per vederne anche il contenuto. Insomma, l'umano si lega alla caratteristica che noi possiamo dire fondamentale dell'uomo, che una volta i filosofi ci chiamavano anima, noi l'abbiamo distinta dicendo che c'è una parte che chiamiamo psiche o mente che dipende dal cervello e quindi come psiche noi dobbiamo dire che sono tutte le caratteristiche che emergono da un organo preciso. Questa è la psiche. Dopodiché c'è anche l'anima, perché però è qualcosa che non riguarda la medicina, anche se ha una grande importanza umana, non riguarda la medicina, poiché ha l'esigenza di essere immateriale e di essere eterna, mentre tutto ciò che fa parte della biologia è materiale e è limitata nel tempo. Allora ciò che trasforma quell'animale in umano è questo cervello che acquisisce durante l'evoluzione delle caratteristiche particolari, cioè presenta delle funzioni che non sono più istintuali e mai come oggi noi capiamo che ciò che definiamo umano è legato al pensiero, che è una delle grandi sezioni del cervello, e alla affettività, che è fatta appunto di emozioni e di sentimenti. Allora queste sono le caratteristiche che certamente sono compatibili con una genetica, con una macchina che è stata costruita, però ecco il pensiero e l'affettività rendono umani. E voi direte, ma allora, cioè quindi andiamo verso una evoluzione, verso la perfezione? Non ha senso usare questo termine, perché la caratteristica dell'umano è proprio la imperfezione. Se noi paragoniamo una società umana con una società delle termiti, e continuo a citarle termiti, perché oggi sono particolarmente studiato da chi si occupa di comunicazione, perché lì funziona tutto perfettamente, mentre invece l'affettività sul piano della comunicazione finisce talvolta di essere una resistenza, perché? Perché l'affettività muta. Noi proviamo qualche mattina, ci sentiamo gioiosi e percepiamo la funzione del tempo, e vediamo gli altri e il mondo in una maniera diversa, a seconda di quando quella stessa persona si alza, ed è triste, ed è malinconica, cambia la percezione del tempo e cambia la percezione dell'altro e del mondo in cui viviamo. Allora, è una evoluzione che per certi versi non è una grande acquisizione, se uno vede il mondo così organizzato in maniera, se vogliamo, matematica perfetta. E allora però ha una grandissima caratteristica, ed è la prima caratteristica dell'umano, di poter staccarsi dalle pulsioni. Cioè, non dovete più meravigliare, io parlo in questo momento agli studenti, se gli istinti, soprattutto attraverso le pulsioni, non hanno più quella caratteristica di automatismo, ma c'è la possibilità di frenare, di controllare, di deviare, chiamatela come volete, ma non è più una questione, come nelle termiti, per usare una delle società, insomma, particolarmente determinate, in cui tutto avviene come in un sistema in cui si ripete tutto in modo automatico. L'umano, e qui è un termine che è già stato usato, la caratteristica dell'umano non solo è la imperfezione, ma è la fragilità. Cioè, in altre parole, la caratteristica dell'umano è anche qui, non è la forza, non è il potere, ma la fragilità, che intendiamoci, la fragilità non è un sintomo, non è una malattia, ma è la percezione che ciascun uomo ha di poter vivere con l'altro. E permettetemi subito di dire, un grande errore, noi continuiamo a parlare di io, io che poi genera il mio, il mio che diventa il simbolo dell'io, perché bisogna, è legato a tutto ciò che in qualche modo si vede. Ecco, ebbene, ma il vero pronome umano è il noi. Non c'è mai un momento nella vita che un uomo sia solo. Da quando un bambino nasce ha bisogno di essere accolto, riscaldato, nutrito. Ecco, e arriviamo alla vecchiaia, che qui è stata già citata, e sanno i miei colleghi, i miei amici, quanto io la stia difendendo. Allora, fino alla vecchiaia, che ha bisogno dell'altro, ma non è un bisogno passivo, è un bisogno relazionale. E si parla tanto di solitudine, non solo per i vecchi, ma anche per altre forme, in realtà sono degli abbandoni. Non è la solitudine che è la caratteristica di potersi percepire anche individualmente e secondo le proprie caratteristiche. Allora, ecco, allora, questo è l'umano. Bisogna che a questo punto mi permettiate di fare una differenza che vorrei che fosse un motivo poi di ripensamento anche per voi e di discussione. Bisogna fare, dopo quanto vi ho detto, una netta distinzione tra società e civiltà. Possiamo dire che società, come vi ho detto, vi ho dato degli esempi. Certo, ci sono le società umane. La nostra società è un dato storico, perché le società sono storicamente, vanno viste in un determinato ambiente e hanno determinati problemi da farle. e abbiamo, e questo ci richiama giustamente a quell'animale cui siamo e che ci possiamo avvicinare quindi a società, animali, le termite che ormai vi ho messo come esempio. La civiltà è qualcosa che riguarda ciò che questo animale ha imparato a costruire, a fare attraverso le capacità psichiche, che sono quella parte dell'evoluzione legata al nostro cervello che permette di pensare in modo diverso, di pensare spesso in modo antitetico. Addirittura oggi noi parliamo di sovrapposizione. L'odio è l'amore, odi è tamo, catullo. Non è che c'è prima l'odio, c'è una sovrapposizione per cui si può sentire una forte relazione e un minuto dopo sentirsi traditi e aver bisogno di un allontanamento. Quindi è una ambiguità, termine, che appartiene alla psiche, non è un giudizio morale, ma è il fatto che noi variamo moltissimo. Perché? Perché c'è il pensiero, vi ho detto, è l'affettività di cui voglio darvi qualche esempio. Il pensiero è in grado di immaginare persino ciò che non c'è. Nessun animale è al di fuori della concretezza e del fatto di affrontare un tema reale di quel momento. Allora ecco che l'importanza dell'immaginazione e io qui lo dico ai giovani, l'immaginazione non è la virtualità. L'immaginazione ha la sorgente in ciascuno di voi, ha la sorgente nel singolo uomo. La virtualità è un prodotto che è uguale, che viene generata da una macchina, sia pure creata dall'uomo. Allora, la possibilità di pensare ciò che non c'è. E questo ha un effetto sul piano affettivo che permette di dire che sul piano affettivo ci sono i desideri. e vedete che i desideri in qualche modo fanno una pandane, perché si aggiungono e sostituiscono agli istinti. Nel 1859 Darwin scrisse il libro, voi sapete l'origine delle specie, e dice che appunto la vita è una lotta, lotta per l'esistenza, che seguiva tre imperativi. Il primo era l'imperativo alimentare. C'è una lotta per avere gli alimenti, per poter avere l'energia vitale. Oggi dobbiamo dire che questo imperativo è perlomeno notevolmente modificato. Abbiamo bisogno di non arrivare alla sazietà, di controllare cosa mangiamo, c'è il pericolo degli squilibri, eccetera. Il secondo imperativo era quello del territorio, dell'avere l'elemento di difesa, di sicurezza. Oggi noi amiamo girare, abbiamo tirato via tutte le barriere proprio per poter andare dappertutto e ora non ci basta più la terra e vogliamo andare negli altri pianeti. Quindi è un imperativo che non esiste. Il terzo è l'imperativo di continuare la specie. I temi della denatalità dimostrano che non c'è più un grande entusiasmo per questa funzione. Perché dico questo? Perché quegli imperativi valgono ancora per società in cui c'è, ma non c'è cibo per tutti. Quindi ci sono ancora dei luoghi nella terra in cui questo, nel pianeta in cui questo avviene, ma non fa parte della nostra società. E quindi ciò che guida noi, ciò che crea in noi, i desideri, sono diventati il fulcro importante. Voi tutti, noi tutti, abbiamo i desideri e che cos'è un desiderio? È la capacità che ciascuno di noi ha di pensarsi domani diverso da come è oggi. Pensate che bello. E il domani non è detto che ci sia. Allora, se una società è fortemente guidata da quel rapporto di adattamento ambientale tra istinti, pulsioni e ambiente, la civiltà è un prodotto che si lega alle nostre capacità psichiche e quindi al pensiero e all'affettività. Ecco, allora che cosa questo significa? Significa che dentro una civiltà che si costruisce lentamente, permettetemi di passare subito alla nostra, la nostra è una società, è una civiltà che nasce nella Grecia Antica intorno al settimo secolo, ottavo avanti Cristo, che si unisce alla Roma Antica, che si unisce al cristianesimo. E sono questi i tre grandi apporti che costituiscono la nostra civiltà, la civiltà che chiamiamo una civiltà, la civiltà appunto occidentale. E entro questa civiltà che è stata lentamente costruita, si collocano le diverse società e infatti possiamo parlare di una società del nostro paese, una società diversa anche per le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea e così via. Allora, ecco, la società, le società sono diverse dalla civiltà e una stessa civiltà può contenere società diverse che si caratterizzano per un'organizzazione particolare, per dei problemi particolari. Se io sono riuscito a attivare in voi questo dualismo, questa differenza tra società e civiltà, allora che cos'è che caratterizza una civiltà? Platone e li definiva i principi primi. Che cos'è che caratterizza una società? Le leggi. E allora ecco che da società e civiltà nasce una differenza che c'è già all'origine che è tra principi primi e leggi che interpretano sempre una storicità, un fatto cioè che caratterizza quel momento storico in quell'ambiente in quelle particolari condizioni e mentre le caratteristiche e le caratteristiche di una civiltà sono al di sopra del tempo. da questo quadro sintetico il tema che noi affrontiamo dell'umano e dell'umanesimo appartiene appartiene ai principi della civiltà e io ritengo che la medicina e adesso ve lo dirò si debba fondare sui principi primi quali sono? Il rispetto della vita non ve li dirò tutti il rispetto della vita non è un tema della società non si può legiferare un principio primo il rispetto della vita significa che c'è una percezione che si lega a questo organo alla psiche per cui tra l'esserci e il nulla c'è un abisso e quindi il tema il tema dell'esserci il tema del rispetto della vita è qualche cosa che fa parte dei principi primi io dico che si potrebbe dire per usare una vecchia terminologia che è qualcosa dentro di noi dentro quella civiltà è questa la espressione la legge morale dentro di me allora l'altro questo significa aggiungere un altro dei principi primi che è quello che chiamiamo della relazione termine che è già venuto per cui c'è la percezione del bisogno dell'altro e noi che abbiamo innalzato nella nostra civiltà l'amore l'amore se guardate bene è l'unione tra due fragilità è una fragilità che ha bisogno di un'altra fragilità perché insieme permette di affrontare quelle che sono le esigenze e rispettare i principi primi e allora c'è un altro principio primo è quello è quello del mistero la morte e noi abbiamo completamente dimenticato come società l'abbiamo persino banalizzata addirittura socialmente è possibile condurre una lotta io non voglio accennare allo stato in cui viviamo in cui ancora la guerra si presenta come una decisione di legge sociale no non è possibile perché va contro un principio primo che è la propria percezione di difesa della propria vita e della vita dell'altro a partire dalla vita del nucleo della persona amata una civiltà una civiltà conosce il lutto ed è bellissimo che gli antropologi abbiano pensato ad un certo punto che proprio ciò che fa scattare il percorso civile è proprio il viaggio il lutto cioè come elaboriamo il lutto un principio primo e direte è il dolore il dolore certo che noi lo vediamo come sintomo ma non è possibile pensare ad un percorso di civiltà ad una relazione senza dolore e quindi c'è un significato al dolore certo che va curato perché è anche sintomo però non esiste l'umano senza il dolore così come non esiste la morte senza senza la percezione della propria esistenza e quindi vedete che a poco a poco noi percepiamo che ci sono dei principi che sono dentro di noi e del resto alcuni sono segnati nel giuramento di Ippocrate Ippocrate non è l'espressione quel giuramento non è l'espressione di un momento sociale è l'espressione della percezione di come sia possibile che l'interesse per l'altro sia al contempo un rispetto di sé non posso rispettare me se lo stesso se non condivido se non avverto il rispetto dell'altro anche perché la relazione è un insieme tra io e l'altro e c'è qualcosa che nasce dalla relazione ecco perché dopo avervi detto l'io ma il pronome è noi ed è bello anche dire a questi giovani che noi non siamo un io siamo tutti una piccola storia che vuol dire che siamo legati in maniera consapevole o no a persone presenti ma anche a persone che non ci sono più e allora ecco il mistero della morte io sono vecchio e vivo più di morti che di vivi questo a dire che c'è un legame anche con un principio primo che certamente non ha alcun significato sul piano sociale e sul piano sociale c'è qualcuno che dice ma tutte queste sono fantasie perché siamo polvere eccetera però ecco ci sono questi che sono i bisogni allora io arrivo a dire che il concetto fondamentale è il rispetto dell'altro e il rispetto dell'altro dell'altro come persona qui ne avete già accennato che vuol dire quello che in termini molto sembra grossolani ma spero espressivi dell'uomo tutto intero e un uomo tutto intero è fatto di corpo più bello meglio ancora di corporeità è fatto di corpo è fatto di psiche ed è fatto di relazione sociale ed è questa l'identità che arriva fino all'identità di ruolo identità individuale quella di genere ma poi appunto è dato da queste caratteristiche che sono tipicamente umane allora l'ambito di cui qui parliamo è un ambito che ha radici nella nostra civiltà nei principi primi e qual è la grande differenza rispetto ad una società è che i principi primi come prodotti del nostro cervello delle funzioni del nostro cervello vanno apprese vanno comunicate sono cioè trasmissibili e acquisibili gli studenti vengono per apprendere vuol dire per imparare che vuol dire dotarsi di ciò che oggi non sanno ecco e tutto questo è qualche cosa che è dentro è parte della civiltà non è nemmeno parte della società ripeto le società poi possono intervenire con leggi ma che non toccano i principi ed ecco perché nessuno può rinunciare ai principi primi o può delegarli a me piace molto ve lo confesso questa idea di attenzione per una civiltà perché proprio in un momento in cui c'è una regressione di civiltà e qui c'è un altro nome che devo ricordarvi che è quello di Gian Battista Vico il quale diceva che noi siamo passati ritorno all'animo così umano un animale noi siamo passati da quello che lui definisce l'età della barbarie che passa all'età degli eroi e che poi passa all'età della civiltà però poiché è un prodotto non automatico non istintuale non definito geneticamente anche se compatibile certo con una genetica ma noi abbiamo un cervello che è flessibile un cervello che cambia con le esperienze e quindi abbiamo una struttura la possibilità cioè di generare delle idee nuove e di cambiare che meraviglia ed ecco perché io sono sempre non ottimista pessimista attivo nel senso che bisogna darsi da fare pur sapendo che non è facile ma è possibile cambiare io non so cambiare le società ma vi garantisco sulla base di più di 60 anni di relazione con le persone che hanno sofferenze che ognuno di noi può cambiare domani mattina basta una relazione basta un ambiente diverso io io non so cambiare la società però so che ognuno di noi lo può fare e so persino che tante vite buttate via avrebbero potuto essere diverse se usate spese in un ambiente differente ecco e allora e allora è questo noi stiamo regredendo stiamo perdendo in civiltà e credetemi che mentre voi raccontavate questa mattina quali sono i bisogni del tema sulla salute di che cosa non c'è più rispetto eccetera io la leggevo in una regressione di civiltà perché vedete è qui passo alle cose la modalità in cui si svolge un comportamento che definiamo medico o sanitario non è una decorazione possibile ad un comportamento scientifico di disciplina cioè ogni medico deve avere una disciplina di riferimento un sapere scientifico su questo però questo non basta il problema questo diciamo fa parte della storia di ciò che abbiamo inventato di ciò che ha capitato nello sviluppo scientifico ma assieme a questo c'è il come usare quella disciplina quel sapere e questo è il come usare fa parte dei principi primi del rispetto per l'altro fa parte del sentire l'altro come qualcuno che può aiutare te al contempo in cui tu puoi aiutare l'altro e allora è chiaro che se in una regressione di civiltà domina la cultura del nemico per cui fino a prova contraria chi io incontro e non conosco è un nemico è chiaro che in questa in questa perdita in questa regressione di società e la fiducia scompare e c'è anche la fiducia verso il medico che non c'è più perché diventa anche lì parte della cultura del nemico nel senso che il paziente può essere soddisfatto di cosa dico oppure no quindi può essere mio nemico è stato accennato a questa mattina ma allora io lo vedo anche qui lo vedo proprio come uno scadimento di questi principi della civiltà certo un principio che voglio subito accennare per esempio che viene sempre messo in tutte le civiltà anche quelle precedenti alla nostra civiltà occidentale c'è la sacralità il bisogno della trascendenza vi dicevo nella fantasia noi possiamo immaginare ciò che non c'è ma proprio in questa possibilità di immaginare ciò che non c'è posso pensare a qualche cosa che abbia una relazione con me sia pure non fatta in maniera secondo nel visibile ma nell'invisibile e quindi ecco ecco la fede l'ho detto questo perché mi ricorda la fede con la F maiuscola ma la fiducia è fede è la stessa origine allora come faccio se io se io mi alzo il mattino e percepisco che incontrare l'altro è avvicinare un possibile nemico perché dovrebbe cambiare quando quando questo rapporto diventa quello pur complicato in ambienti che non sempre sono attraenti perché sono luoghi della paura non dimenticate lo definiamo gli ospedali come volete ma sono luoghi che noi viviamo come pazienti nella paura che è una paura nostra di continuare a vivere e che proiettiamo sugli altri proprio come autodifesa ecco allora non possiamo dire che il come fare il medico sia una decorazione dice quello sa bene la disciplina poi lo sa fare in un modo particolare ecco come se appunto ci fosse il medico con la stessa conoscenza di disciplina ma che ha diverse belle maniere cioè come cioè se si trattasse di una medicina dalle belle maniere mettiamoci anche la gentilezza oggi ma o una medicina invece di quella tecnica cioè quel medico che dice io ho una tecnica in questo caso la devo applicare il resto non mi importa non sto parlando di teorie ipotetiche ma ha dominato basta pensate a qual era qual era la cultura del chirurgo allora e domina ancora la medicina specialistica che vuol dire che ognuno medico è attento ad un organo e non certo all'uomo tutto intero di cui abbiamo parlato prima allora non si tratta di dire io insegno l'università non può dire io insegno il sapere per per svolgere certo no deve anche ricordare la modalità e e questo è il punto forse sono vicino vero ancora due tre minuti cinque minuti grazie allora allora ecco allora qui c'è il principio su cui io vorrei centrare vorrei insomma affidarvi affidarvi questa cosa dal pensiero oggi non è più possibile parlare di disciplina ciò che tu sai da come si applica in maniera pratica la disciplina nel paziente e quindi questo supera l'idea che il medico non certo deve conoscere le malattie ma curare i malati non dice ma qui c'è facciamo questa diagnosi che sostenuta anche dall'intelligenza artificiale e a questo punto bisogna fare quell'intervento che fa benissimo una macchina insomma no questo qui qui si va contro si va contro come a un principio che vedrebbe come fare la vedrebbe come una decorazione quel medico è gentile l'altro no magari però insomma come se fosse una dote personale che uno può incontrare no questi due aspetti il sapere e il come applicare il sapere è unitario ma questa volta questa mattina permettetemi di dire non è unitario per un pensiero filosofico per una idea religiosa per una no scientificamente la modalità con cui ci si relaziona il malato è parte dell'effetto terapeutico oltre che dell'effetto diagnostico che andrebbe a poco perché vuol dire vuol dire che quella relazione permette di conoscere molto di più del paziente perché mi racconta perché riesco ad entrare ma anche parte a un effetto terapeutico e la dimostrazione è molto semplice e permettetemi qui di fare di richiamare per un momento la mia professione di psichiatra sia pure dopo aver fatto neurologia dopo aver studiato bene i farmaci ma di psichiatra quando all'inizio degli anni 60 si era cominciato si era visto che 61 62 io ricordo quella data che esce un articolo su Nature in cui si dimostra che il tumore alla mammella che allora era all'attenzione in particolare della della medicina era più frequente in donne che fossero affette da depressione si disse che era una non si diceva ancora le fake news si diceva che era un falso risultato perché dice ma com'è possibile legare un effetto psichico al Soma cioè non si trattava solo della medicina psicosomatica che era già nata con Alexander e che era molto semplice si occupava dell'ansia e diceva che una persona in stato ansioso può trasformare l'ansia in qualcosa di organico ed era tipico per chi faceva lo psichiatra veniva il paziente e dice ah sa professore sto meglio perché dice non ho più l'agitazione ma dico e poi diceva tutto bene no dice se ho solo un po' da un po' di tempo c'ho il doloretto no la somatizzazione no qui era un processo un vissuto come la depressione che che è una visione del mondo vedete il depresso si regge su due pilastri il primo è la percezione di non sapere fare nulla anche ciò che faceva ordinariamente la seconda non è sufficiente la secondo il secondo pilastro è il senso di colpa cioè il sentirsi in colpa per non sapere fare ciò che si vorrebbe fare e addirittura di cui si vede l'altro che si aspetterebbe li venisse erogato li venisse fatto allora come è possibile che addirittura una concezione complessa come dico come è possibile che possa incidere su un fenomeno come quello del tumore mammario ecco 1960 e vi garantisco che chi sosteneva questo e io tra quelli che trovavo che ci fossero elementi per sostenerlo ecco adesso adesso si è riusciti anche a capire che comunque la percezione esistenziale cioè come la tua visione del mondo le visioni del mondo è un bellissimo libro di Jasper su un grande psichiatra de Weltanschauung allora che quella visione del mondo poteva comportare una perdita di stima di sé la self-estima cioè il depresso proprio dice sono talmente incapace che voglio morire questo in alcune forme non sono tutte così ovviamente allora che cosa che cosa che cosa che quella visione del mondo finiva per agire in maniera specifica sul sistema immunitario sia addirittura sulle cellule che lo memorizzano le cellule e facendosi che si modificava l'attività immunitaria che come gli studenti cominciano a sapere molto bene non è più non è più legata alla difesa da organismi esterni ma controlla anche la moltiplicazione cellulare che poi è alla base in senso generico della dell'oncologia e allora appunto si è cominciato a vedere che quell'aspetto esistenziale chiamiamolo così invece che patologico che quell'aspetto esistenziale incide su un meccanismo fisiologico che è deputato anche al controllo della moltiplicazione cellulare e che quindi non è più una stranezza che un aspetto clinico che un aspetto come dire di tipo psichico influenza ed ecco che viene fuori di nuovo il rapporto tra psiche e insomma ma in maniera ben diversa che non è più solo quella dello stimolo stressante insomma il modello dello stress allora è scientifico oggi che il come fai il medico cioè se sei un medico relazionale mi piace molto la clinica relazionale se sei un medico relazionale ebbene tutto ciò che tu farai su quel paziente facendo riferimento alla tua disciplina non porterà tutti gli effetti che potrebbe portare se tu aggiungessi un rapporto relazionale positivo coinvolgente e di qui di qui avete detto tutto insomma attenti eccetera quindi oggi è sacro santo scientificamente che il come un medico stabilisce i rapporti con i pazienti condiziona in senso positivo o negativo l'effetto dell'applicazione di quella disciplina che ha un fondamento scientifico porto un esempio che non c'è e finisco quando in pediatria si studiavano i bambini e ci cercava quindi di analizzare come paziente il singolo bambino si è passati ad un metodo straordinario che era l'osservazione madre-bambino cioè in altre parole se un pediatra è chiamato perché c'è un bambino che ha dei sintomi allora bisogna osservarlo non solo individualmente ma bisogna vederlo corrispondentemente insieme al rapporto fare la lettura bambino madre dico madre perché questa è la tendenza che ha avuto negli studi iniziali di polpi eccetera ma anche delle altre persone insomma ovviamente dipende cioè da come quel bambino avverte una certa sicurezza una certa difesa si sente accettato ebbene così come influenza notevolmente il comportamento di una madre a corrente alterna la si chiama cioè quelle madri che hanno in alcuni momenti una grande accettazione manifestazioni affettive ma in momenti successivi magari un distacco anche molto freddo ecco questa variabilità questa variabilità ha degli effetti negativi addirittura sulla crescita e quindi per dire ancora una volta come una modalità relazionale finisce per delineare un comportamento di quel bambino anche quando sarà adulto allora io la mia la mia piccola conclusione è questa non è più possibile staccare il sapere da il come viene applicato e il come e quel sapere ma pensate che bello quel sapere acquista significato solo o comunque lo acquista in modo diverso a seconda della maniera relazionale attraverso cui lo passiamo allora permettetemi di rivolgermi al mio amico al mio amico rettore caro rettore tu a questi ragazzi devi insegnare non solo che cosa la ricerca ha portato e qual è il comportamento più adeguato all'uso di una di una disciplina che abbia certezze che abbia conoscenze particolari ma devi dire il risultato di questo vostro comportamento dipenderà dal fatto se voi saprete stabilire con il malato una relazione che è fatta non della legge espressione sociale che poi il direttore generale deve affrontare e così via ma che questa relazione si fonda sui principi primi che non sono scritti in nessuna legge ma sono scritti nella caratteristica dell'appartenenza ad una civiltà forse allora capite perché in questo momento storico è un po' distruttivo dove sembra che la distruzione si voglia distruggere insomma ormai si fa si uccide l'altro ci si uccide si brucia prima c'è distruzione ecco che bisogna rendersi conto in questo momento che la relazione e la relazione medica in particolare è necessaria perché se in quella se in quel pronto soccorso che è il grande problema di cui vi dovete occupare voi c'è un vissuto in quel momento tu sei impaurito e hai bisogno di qualcuno che ti aiuti del medico e se vedi che non c'è nessuno che stabilisce una relazione con te allora quell'esperienza è addirittura negativa perché manca la modalità e pensa che strano è negativa nel luogo in cui si accentrano tutte le specialità perché c'è è un pronto intervento che poi subito ti rimanda in altre parti quindi senza relazione è drammatico dirlo senza relazione anche i grandi le grandi scoperte scientifiche possono perdere tutto il loro peso io vorrei darvi un solo esempio che è quello dei vecchi è possibile ancora che la società abbia una percezione della vecchiaia come qualcosa di negativo come un peso sociale come qualcosa addirittura di inaccettabile perché siamo arrivati al 22% nella popolazione sono 30 anni che io vado a convegni sugli sviluppi delle motivazioni che portano ad allungare il tempo di esistenza e c'è la medicina c'è stata anche l'economia il benessere c'è stata anche lo sviluppo dell'igiene ecco allora è possibile che che questo che ancora una condizione di fragilità particolare che è quella del vecchio che per 30 anni cerchiamo di rassicurarlo addirittura con l'attesa di vita prolungata che però contemporaneamente quella stessa società dice per carità il vecchio è un peso lasciamolo nella solitudine abbandoniamolo magari col telefonino insegnandoli come andare negli web cosa vuol dire vuol dire avere scoperto dei meccanismi per allungare la vita e averli neutralizzati completamente per la modalità che una società trasmette continuamente al vecchio di essere inutile e anzi di essere negativo ecco questa è una incongruità che bisogna vedere anche all'interno della medicina insegniamo cosa dice la scienza e come si fa ad applicarla secondo i principi primi secondo i principi della nostra civiltà vi ringrazio molto di essere con i principi di essere di essere